Stanno tornando all'ombra del Torrazzo i giovani artisti che partecipano al Cremona Summer Festival, rassegna organizzata dalla Camera di Commercio insieme al Conservatorio Monteverdi e in collaborazione con il Comune, che ogni anno a luglio anima la città di concorsi, masterclass e concerti ad ingresso gratuito, apprezzati dal pubblico per la varietà della proposta musicale. Nelle ultime edizioni, causa pandemia, non è stato possibile allestire la manifestazione nella sua formula tradizionale, mentre stavolta tornano le lezioni, che sono momenti di crescita sia professionale sia personale, come ricorda il direttore artistico della Cremona International Music Academy, il violinista Mark Lachirovich. Non vedevamo l'ora di tornare, sono trascorsi ormai tre anni dall'ultima Academy e adesso finalmente riprendiamo. Il mondo deve affrontare la pandemia e diversi altri problemi, ma è importante ripartire anche con la musica. Ci è mancata Cremona, il pubblico, gli amici, siamo felici di essere qui. Durante la permanenza in città, studenti, accompagnatori e docenti si dedicano al turismo musicale fra botteghe di liuteria e museo del violino, scoprendo poi le peculiarità del territorio. Per qualcuno è la prima volta nel borgo nativo di Stradivari. Mi chiamo David Anderson e vengo da San Diego, in California. È fantastico essere qui. Ho incominciato a suonare con artisti e docenti formidabili, quindi mi sto perfezionando e oltretutto mi diverto. Il programma dei concerti è disponibile sul sito web della Rassegna.